ma tu guarda in che situazione mi trovo niente da fare non potevo stare a welcome come tutti i comuni mortali no dovevo venire qui di persona a constatare se c'erano i dinosauri veramente certo eccone uno mannaggia vai e voi bruce rake ma dove vi siete cacciati ma cos'è sto coso mannaggia ci manca anche st affare via e pure in mezzo alle uova mi trovo e che ci faccio un omelette mannaggia ma te ne vuoi andare oltretutto sono uova di t-rex se torna la mammina mi coccia per le feste mannaggia poi poi sono andato oh 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 aia porca miseria no giù ma che vuole vabbè l'importante è che non arriva il t-rex quasi quasi adesso adesso cosa bruce rake mannaggia che succede adesso oh oh mi sa che è tornata la mammina eccola annaggia lo sapevo io lo sapevo per cavolo no eh no eh ma io ce l'ha con me lo sapevo no mannaia ecco mi ha spettinato lo sapevo me lo sentivo ragazzi venerdì 19 gennaio dalle 21 e 30 vi aspetto qui al jurassic park se non mi mangio il t-rex naturalmente ci sarò io in console bruce rake mi dite come esco da qui certo che c'è un alito pesante mannaggia e vai vai dai fatti un bel giretto ecco bravo ok meno male no no si schiudono le uova venerdì 19 gennaio alle 21 e 30 al jurassic park io in console credo siete pronti per questa incredibile avventura riusciremo a sopravvivere in mezzo ai dinosauri ma sì tranquilli bruce rakel gli ovner della sim hanno sapientemente chiuso in gabbie molto sicure i dinosauri e anche loro vedrete che balleranno con il noi a colpi di beat su musica dance progressive quindi forza fridomiari jurassic park vi aspetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.